mezzo attenzione verde poi il tocco di Ardemagni Ardemagni il pareggio dell'Avellino con la zampata di Matteo Ardemagni sotto misura Valla Verone la palla in mezzo Ardemagni Ardemagni vola in cielo e fa volare l'Avellino ed è 2 a 1 Avellino in fondo alla partita c'è Ardemagni gestisce lui il pallone Ardemagni si invola verso la porta visto LASIC entra in area LASIC attenzione LASIC palla in mezzo per Eusepi Umberto Eusepi e l'Avellino la chiude qui 3 a 1 al tombolato